Si chiama Cassius ed è un innovativo sistema di comunicazione condominiale multimediale, ecologico, efficiente e gratuito, ideato da Salvatore Dolce insieme al gruppo Elxi Project in collaborazione con Pullical Service. Sarà soverato il primo comune in assoluto ad adottare tra qualche mese il nuovo sistema che permetterà di rottamare il classico volantino e non solo. Attraverso l'installazione di circa mille postazioni nei condomini con uno schermo simile ad un iPad, i cittadini avranno la possibilità di comunicare direttamente con l'amministrazione comunale che fornirà informazioni utili sugli orari degli esercizi commerciali, sulla raccolta differenziata, sui trasporti pubblici, su eventuali interruzioni del servizio idrico, allerta meteo. Inoltre il classico volantino, in base ad una convenzione con i supermercati, sarà convertito in un corrispondente digitale con annesso servizio di spesa gratuita a domicilio. Ad avvisare l'utente sarà il citofono con un messaggio automatico o direttamente lo schermo installato nel vano scala condominiale. Un meccanismo che tra le altre cose prevede un risparmio di oltre 1820 kg di carta al mese. È un sistema rivoluzionario, nasce in Calabria, assoverato da un gruppo di ingegneri meridionali attraverso società italiane e quindi veramente l'orgoglio di poter ospitare oggi questi ragazzi che lanciano una start-up in un contesto economico difficile e con coraggio e con grandi progetti stanno portando avanti questa loro idea e che sono sicuro avrà grande successo. Per adesso abbiamo avuto una manifestazione di interesse da parte di Badolato, Guardavalle e Santa Caterina, però sappiamo già di altri sindaci che sono molto interessati. Rossella Galati per la Cineus 24